Oggi abbiamo celebrato la giornata mondiale della statistica, l'abbiamo celebrata non solo con gli esperti ma anche con i ragazzi, i bambini che hanno lavorato nel corso degli ultimi due anni su dei progetti per la cultura statistica. La statistica infatti oggi serve a tutti, non può servire soltanto a chi ha responsabilità di governo, serve ai cittadini non solo per controllare quello che fanno i responsabili politici ma anche per prendere decisioni per migliorare il proprio benessere. Ecco perché il tema della cosiddetta cultura statistica è un tema che riguarda tutti. La giornata mondiale della statistica indetta dall'ONU serve proprio a farci capire l'importanza di questa disciplina e l'importanza della statistica ufficiale in particolare, cioè di quelle istituzioni come l'Istat ma non solo, che pubblicano dati che servono a tutto il Paese per capire se la situazione migliora, peggiora, se lo sviluppo sociale, economico, ambientale procede nella giusta direzione. Ecco perché la statistica è uno strumento di democrazia, è uno strumento per migliorare il benessere di tutti ed è con questo spirito di servizio pubblico che il personale dell'Istat e del Sistema Statistico Nazionale opera quotidianamente. Serve però la collaborazione di tutti, serve la collaborazione dei media, serve la collaborazione degli utilizzatori per far sì che queste statistiche diventino conoscenza condivisa. Anche i cittadini hanno il compito di guardare meglio queste statistiche, distinguerle dai sondaggi o dalle previsioni perché sono molto più difficili da fare naturalmente, più incerte e quindi supportare, sostenere le attività dell'Istat e altre istituzioni quando collaborano ad esempio ai questionari, quando collaborano alle indagini statistiche. Abbiamo bisogno, in altre parole, della collaborazione di tutti per aiutare tutti a conoscere meglio questo nostro Paese.